Salve ragazzi, sono Andrea Bruno, mi trovo nel Borgno tra Bintoulou e Miri. Questa è una spiaggia veramente incontaminata, ci sono giunto qui in moto, non ci sono strade che portano fino qua. Vi volevo mostrare una peculiarità di questa spiaggia. Guardate, la sabbia è bagnata, se gli cammino sopra si asciuga, camminandoci sopra si asciuga. Guardate, vi farò vedere dove appoggio i piedi. Vedete, appoggiando i piedi la sabbia si asciuga. È incredibile, è una sorta, praticamente dove vi mettete voi la sabbia automaticamente si asciuga. Questo è un fenomeno naturale che non si riesce a capire, andrà studiato. Ecco, guardate, cammino e camminando si asciugano le acque. Si ritirano... Ecco, questa è un po' una peculiarità di questa spiaggia. Guardate, camminando si asciuga. Si ritirano le acque. Ecco qua. Guardate, dove mi metto si asciuga. Ok, vediamo chi mi sa spiegare dal punto di vista fisico questo fenomeno e noi intanto ci sentiamo alla prossima. Ecco, volevo dire una cosa. L'acqua è proprio temperatura ideale. Mai percepito un'acqua così calda. Neanche se a casa vostra e nella giacuzzi cercate di regolare l'acqua in una temperatura proprio consona a voi stessi, non ce la farete mai ad azzeccarla come la temperatura qui delle acque del Borneo. Ok ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.